Buonasera, buonasera a voi. Allora, in queste ultime 24-48 ore secondo me si mescolano stupidità, arroganza, poca lungimiranza. Quello che sta succedendo in questo momento nella striscia di Gaza è un qualcosa che avrà delle conseguenze terribili nel futuro. Tra l'altro, ancora una volta, e ho avuto modo di sottolinearlo più volte, Israele dimostra di fregarsene altamente di quelle che sono le leggi di ingaggio, di quelle che sono le risoluzioni dell'ONU, che non prevedono che nel momento in cui tu sei stato brutalmente attaccato che sei legittimato ad attaccare in maniera altrettanto brutale. No, non è così. Non è così perché questo sappiamo perfettamente. Fa sì che ci sia una escalation, fa sì che poi ci sia vendetta su vendetta. E francamente in questo momento pensare dove si arriverà è molto molto difficile. Tra l'altro non deve passare così sotto silenzio quello che ha fatto il governo francese, ad esempio, che sta vietando le manifestazioni pro-Palestina. Conosciamo molto bene i governi francesi che portano, secondo loro, la democrazia nel mondo uccidendo i dittatori di turno, vedisi Libia, vedisi Gheddafi e poi, insomma, in casa loro bloccano quelli che sono delle manifestazioni che se sono democratiche devono essere accettate. È chiaro che si diventano violente e devono essere controllate, ma io credo che, insomma, una forza militare, una forza di polizia come quella francese non dovrebbe avere difficoltà a fare questo. E invece ha impedito il che chiaramente farà scattare ulteriori reazioni da parte del mondo palestinese in Francia. Poi, insomma, i francesi non si devono sorprendere se tra qualche tempo scattano gli attentati, perché ognuno poi fa con le armi che ha a disposizione. Io devo dire che anche in questi giorni mi fa un po' ridere, no? Quelli che dicono, sì, ma la brutalità di Hamas. Cioè, Hamas non ha le armi sofisticate di cui dispone Israele. Cioè, non ha la possibilità di andare a mirare i palazzi governativi, laddove ci sono magari il rifornimento di armi e quant'altro, come possono, ad esempio, fare gli israeliani, che poi, tra l'altro, in queste ore, invece, stanno proprio colpendo i civili nella striscia di Gaza. E allora uno si comporta come meglio riesce per fare la sua guerra. E vorrei dire a questi intellettuali di turno, che ce ne sono tantissimi anche in Italia, benvenuti nel mondo della guerra. Perché la guerra è questa e ognuno, ripeto, la combatte con le proprie armi, con le proprie disponibilità, anche economiche. È chiaro che il ricco occidente le combatte in maniera più sofisticata, se così posso dire, e sembrano assai, e lo sono di fatto, molto più brutali quello che fanno altri eserciti e altri paesi. Scusate, ma stasera non è una giornata ottima, sono anche un po' raffreddato. Comunque, ripeto, molto grave quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. Vedremo come si concluderà il tutto, ma io francamente non vedo nulla di buono, perché questo fa solo scattare un'ulteriore vendette da parte dei palestinesi. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.